Ciao a tutti. Siete nel canale Impulso della Terra. Ricordatevi di iscriversi nel canale per essere sempre aggiornati di ultimi notizie. Buona visione. Un tornado piuttosto potente ha colpito la città cinese di Kaiyuan, a cui è stata assegnata la categoria EF2. A seguito del suo passaggio, 6 persone sono morte e 100 sono rimaste ferite di varia gravità. Un tornado con una velocità del vento fino a 23 metri al secondo ha colpito la città alle 17.15. Ha sfondato la zona industriale e si è trasferito a sud. La sua durata totale è stata di 15 minuti. Il tornado è stato accompagnato da forti piogge e grandine, che hanno causato danni ad appartamenti, edifici industriali e pali della corrente. Al momento sono in corso il ripristino delle infrastrutture nelle aree colpite e si stanno valutando i danni. L'elemento ha danneggiato più di 1.000 edifici, oltre a 1,5 mila ettari di terreno agricolo. Un totale di oltre 200 poliziotti, vigili del fuoco, paramedici, soccorritori e altro personale di emergenza sono stati coinvolti nelle operazioni di soccorso, hanno affermato le autorità locali. Forti piogge e grandine hanno causato danni in alcune parti della provincia africana di Gauteng, inondando le strade e lasciando uno spesso strato di ghiaccio sul terreno. La città di Vanderbilt Park è stata la più colpita. Gli elementi imperversarono lì per circa mezz'ora. La dimensione dei chicchi di grandine variava da 2 cm a 4 cm di diametro. I servizi di gestione delle catastrofi e delle emergenze sono stati messi in allerta. Il servizio meteorologico sudafricano in precedenza aveva avvertito di una forte tempesta in avvicinamento a Vanderbilt Park, con più grandine, forti venti e forti piogge. Una grande grandinata ha causato danni alle proprietà dei residenti. Nella città di Vanderbilt Park, tali eventi meteorologici si sono verificati per la prima volta in 15 anni, il che ha sorpreso abbastanza la gente del posto. Foto e video del dopo, hanno condiviso sui social media. A Marielle, il lago, che molti chiamavano l'ottava meraviglia del mondo, è stranamente scomparso. Le foto del lago scomparso sono diventate virali sui social. I residenti locali notano che alcuni giorni fa si è sentito un forte rugito, che ha attirato molte persone. Gli abitanti del villaggio, che si trova sulla riva del Siai, andarono subito in esplorazione. Sul posto, si è scoperto che l'acqua era scomparsa. Il ghiaccio è crollato e sotto di esso il vuoto, ora, invece della perla mari, i turisti vedranno un inguto vuoto, che andrà ad adattarsi a un edificio di nove piani. Scienziati, geografi e storici locali si interrogano sulle ragioni di quanto accaduto. Ognuno propone la propria versione di quello che è successo. Ma tutti sono d'accordo su una cosa, il motivo principale, probabilmente, è ancora una diminuzione del livello delle acque sotterranee. La sera dell'11 febbraio una forte tempesta di neve ha colpito lo stato del Minnesota negli Stati Uniti. Il Dipartimento dei Trasporti del Minnesota ha consigliato alle persone di rimanere fuori dalle strade nelle parti nord-occidentali dello Stato poiché il maltempo ha reso il traffico molto pericoloso. In alcune zone la visibilità non ha superato i 10 metri. Con tali condizioni meteorologiche, il numero di incidenti è aumentato notevolmente. In poche ore sono stati registrati più di 95 incidenti. Diversi camion sono rimasti bloccati sull'interstate 94 tra Barnesville e Radisei durante questa tempesta invernale. A causa dei forti venti in tutto lo Stato, le linee elettriche sono state danneggiate, quasi tutte le strade sono state temporaneamente chiuse al traffico. Una velocità del vento superiore a 28 metri al secondo ha rotto gli alberi e demolito i tetti delle case. Il National Weather Service ha affermato che la bufera di neve dovrebbe continuare per tutto il giorno e iniziare a placarsi solo la sera. Una situazione simile si osserva nello Stato del North Dakota, USA. La bufera di neve ha interrotto il traffico e chiuso le scuole. La bufera di neve è accompagnata da un forte vento, le cui raffiche raggiungono i 28 metri al secondo. Fargo era al centro della tempesta. È qui che si osservano le peggiori condizioni meteorologiche. Inoltre, i meteorologi avvertono che nel prossimo futuro la temperatura dell'aria in alcune parti dello Stato scenderà a 30 gradi sotto zero. Le autorità consigliano ai residenti del North Dakota di astenersi dalla guida. Finora nessuno è rimasto ferito a causa della tempesta. Questa non è la prima forte nevicata nel North Dakota nelle ultime settimane. Il maltempo si osserva in altri stati degli Stati Uniti. Nel New Hampshire durante il fine settimana a causa del viaccio e della neve si è verificato un incidente che ha coinvolto 59 auto. In Connecticut, 13 auto si sono scontrate per gli stessi motivi. Nessuno è rimasto gravemente ferito in nessuno dei due incidenti. Le forti piogge che hanno colpito con frequenza costante lo Stato del Minas Gerais hanno provocato allagamenti in diversi comuni. Si noti che più di 2800 residenti sono stati costretti a lasciare le loro case ed evacuare in sicurezza. Nella città di Uatuba, il fiume ha straripato le sue sponde e ha allagato intere aree residenziali. Allo stesso tempo, secondo l'Agenzia Mineraria Brasiliana, 36 dighe nello Stato sono in stato di emergenza. In alcune zone sono caduti più di 200 mm di precipitazioni in meno di un giorno, ovvero quasi il 30% del tasso mensile. Secondo i media locali, nella città di Passos sono state rilevate frane, a seguito delle quali diversi edifici sono stati completamente o parzialmente distrutti. Il livello di inondazione in alcuni punti supera già un metro. Oltre 200 storni morti sono caduti dal cielo nel Pembrokeshire, nel Regno Unito. Una vista così terribile, di uccelli morti sparsi lungo la strada è stata osservata dai residenti locali il giorno prima. Questa non è l'unica caduta di uccelli nel Regno Unito, ci sono state segnalazioni simili da almeno altre tre città, ma il numero di cadute di uccelli è molto inferiore. Se ti affidi alle statistiche, ecco cosa viene fuori, l'anno scorso tali fenomeni sono stati notati nel Galles del Nord, più di 300 storni sono morti lì. Le cadute di uccelli sono state registrate a Roma, in Arkansas e in Australia. Cosa sta succedendo? Perché gli uccelli cadono misteriosamente dal cielo in diversi paesi del mondo? Qual è il motivo del loro comportamento? Finora non ci sono risposte esatte e nessuna spiegazione da parte delle autorità. La Spagna sta affrontando la peggiore siccità degli ultimi 20 anni. Gennaio 2022 è stato il più secco mai registrato. Sebbene le regioni settentrionali abbiano ricevuto una quantità record di precipitazioni quest'inverno, il resto del paese non ha visto né pioggia né neve e la temperatura media dell'aria era ben al di sopra dello standard. I serbatoi locali sono pieni solo del 45%, ovvero il 10% in meno rispetto al 2021. Un'attrazione turista in Spagna è un villaggio di segni emerso quando una siccità ha quasi devastato una diga sul confine spagnolo-portoghese. Quando il bacino è pieno solo per il 15%, si può nuovamente osservare la vita, congelata, del lontano 1992, quando il villaggio di Aceredo nella Galizia spagnola a nord-occidentale fu allagato per formare il bacino idrico dell'Alto Lindoso. I visitatori possono vedere tetti parzialmente crollati, mattoni e detriti di legno e persino una fontanella sul terreno del villaggio fantasma. Nel sud della California, i massicci incendi stanno raggiungendo proporzioni catastrofiche a causa del caldo record e della crescente siccità. Uno dei più grandi incendi è scoppiato ieri a Laguna Beach e gli incendi si sono diffusi anche nella contea di Los Angeles. I residenti sono stati costretti ad evacuare mentre spesse nuvole di fumo coprivano la zona costiera. Il forte vento contribuisce alla propagazione degli incendi, a sua volta è uno dei fattori che complica notevolmente l'estinzione. L'incendio si è diffuso su una superficie di circa 100 ettari. Diverse case sono già state completamente distrutte. Più di 200 vigili del fuoco sono impegnati nell'estinzione, oltre a 5 unità di equipaggiamento aereo. Il clima caldo e secco continuerà in California nel prossimo mese, esacerbando la minaccia di incendi ancora più gravi. Nel 2021 gli incendi sono diventati così diffusi da distruggere in pochi giorni la città californiana di Greenville. Le forti piogge sono tornate in Ecuador. A causa di queste piogge, il fiume San Nicolà nel cantone di Ruminahui ha rotto gli argini. In alcune zone si sono formate inondazioni locali. La strada E35 è attualmente chiusa. Su questa strada, diverse auto sono rimaste intrappolate in una trappola d'acqua. I conducenti sono costretti ad aspettare l'aiuto dei soccorritori. Sui social stanno circolando video girati da testimoni oculari dell'evento. Le autorità hanno già emesso un'allerta meteo arancione fino a lunedì a causa di inondazioni. I meteorologi hanno avvertito che per questo fine settimana sono previste precipitazioni fino a 110 mm e hanno chiesto ai residenti locali di prestare attenzione. Terremoti sulla Terra. Durante il giorno, sulla Terra si sono verificati 103 terremoti di magnitudo da 2.0 a 5.5, esattamente dove potete vedere sui vostri schermi. E ovviamente un momento di positività sul canale. Un miracolo nato dall'acqua e dal bronzo, le fantastiche fontane di Malgorzata Kodakovska e le sue opere, che senza alcuna esagerazione possono essere definite capolavori, nascono dal legno, dal bronzo, dall'acqua e dal talento di uno scultore. La base per il lavoro futuro è un solido pezzo di legno. Strato dopo strato di Malgorzata rimuove tutto il superfluo e, di conseguenza, nasce una figura femminile raffinata, che colpisce per la morbidezza delle linee, congelata in una posa elegante. Una scultura in legno perfettamente eseguita è fusa in bronzo. E poi Malgorzata completa l'immagine inizialmente concepita con getti d'acqua, vestendoli di abiti leggeri e fluidi che sembrano vivacizzare le sculture. Puoi guardare l'acqua che scorre nelle fontane per un tempo infinitamente lungo. E se è anche abilmente combinato con graziose sculture in bronzo, allora difficilmente puoi passare indifferente a tanta magnificenza. Grazie per aver guardato il video. Se vi piaciuto, ricordate di mettere mi piace e iscriversi nel mio canale per essere sempre aggiornati di cataclismi della pianeta. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.